La grande distribuzione e il pronto il piano quinquennale per le strutture di vendita previsti 43.000 metri quadri, un terzo dei quali per ampliamenti e il resto destinato a nuove strutture tra cui un mega store che potrebbe sorgere sull'areale ferroviario di Bolzano. La grande distribuzione si concentrerà sull'areale ferroviario di Bolzano. Queste almeno le intenzioni dell'assessore al commercio Thomas Wittmann che lunedì prossimo presenterà in aggiunta il piano quinquennale per le grandi strutture di vendita che prevede un totale di 43.000 metri quadrati tra cui un mega store da 20.000 metri a Bolzano Nord. Rispetto alla bozza iniziale preparata due anni fa dall'allora assessore Werner Frick sono stati aggiunti circa 7.000 metri. Prevede di destinare 43.000 metri quadrati di superficie alle grandi strutture ovvero i supermercati con più di 500 metri. Ancora un'incognita i tempi di realizzazione visto che ancora non è partito il concorso di idee circa l'utilizzo dell'areale ferroviario. Le altre superfici che si libereranno su Bolzano dovrebbero almeno in parte essere utilizzate nelle nuove zone di espansione previste nella bozza del Masterplan a Ponte Adige e lungo la vecchia strada per Merano. Circa un terzo dell'intera metratura disponibile sarà riservata agli ampliamenti mentre i due terzi saranno destinati a nuove licenze ovvero una decina di grandi supermercati. Grazie. Grazie.